Pistole, sciabole, fucili, munizioni, coltelli, baionette. Un piccolo arsenale da guerra, quello scoperto e sequestrato dalle agenti del commissariato di polizia di Andria, che hanno arrestato un incensurato andriese di 61 anni. L'uomo, un vero collezionista, dovrà rispondere di diversi reati. Detenzione abusiva di munizioni e armi da guerra, omessa denuncia, omessa custodia e detenzioni di arma comune da sparo, con matricola brasa. Gli agenti si sono recati presso l'abitazione del 61enne ed hanno proceduto ad effettuare un controllo amministrativo volto alla verifica del rispetto della normativa vigente in tema di armi. Durante tale accertamento i poliziotti hanno verificato la presenza delle armi e delle munizioni regolarmente denunciate, ma hanno anche individuato altro materiale illecitamente custodito. Abbiamo accertato che in casa di un incensurato c'era questo ben di Dio, tra virgolette. Ovviamente si tratta di una persona anche di 61 anni, che comunque aveva un normalissimo lavoro. Evidentemente una grande passione per le armi, di grande cultura anche in questo campo, che però aveva omesso di denunciare alcune di queste. Tra l'altro c'è anche una pistola con matricola brasa, ma poi tra l'altro deteneva anche delle armi che non possono essere assolutamente detenute, nonché delle munizioni da guerra, che ovviamente parti di essa, che non possono essere detenute. Tra l'altro ci sono anche caricatori per una mitragliatrice o per la K47, che sarebbe praticamente Kalashnikov, o le Scorpio. Quindi abbiamo trovato questo arsenale, oltre tutte le baionette e spade che non potevano essere detenute. La prequisizione effettuata nell'intera abitazione ha consentito di trovare quattro pistole, di cui una con matricola brasa, 608 munizioni di diverso calibro, 70 caricatori, 34 baionette, 5 sciabole, 2 spadini e 100 grammi di polvere da sparo. Di particolare interesse investigativo è stato il ritrovamento di tre caricatori per Kalashnikov e quattro caricatori per pistola mitragliatrice Scorpion, oltre al munizionamento di tipo militare, ossia proiettili traccianti, in grado di lasciare traccia della traiettoria di fuoco percorsa dalla pallottola, rendendola visibile dopo l'esplosione. Verificheremo se queste armi che risultano funzionanti possono essere state utilizzate in alcuni episodi criminosi, ovviamente attraverso l'effettuazione di analisi balistiche, ma tra l'altro verificheremo anche se ci sono anche altri collegamenti o ci sono altre armi che possono essere rinvenute. Atteso che il controllo che è stato effettuato è stato effettuato, ma anche l'immobile è stato sottoposto a sequestro in quanto è necessario fare ulteriori approfondimenti. L'uomo, un insospettabile dipendente di un ente pubblico, non ha voluto spiegare agli investigatori la provenienza del materiale sequestrato. Le sciabole, spiega il dirigente del commissariato di polizia, potrebbe averle acquistate online, ma non sono state denunciate. Direi che si tratta di una persona che, come dice lei, giustamente viveva da sola, ma tra l'altro non destava alcun sospetto. Anche gli acquisti e anche la documentazione che abbiamo trovato ha comprovato una persona di notevoli conoscenze anche nel campo, ma direi più a livello storico, quindi un conoscitore profondo anche della storia delle armi. Oltre al materiale, anche l'abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre l'uomo è stato tratto in arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria.